Signore e signori, la rivelazione di quest'anno, due rivelazioni di quest'anno e poi una voce classica di Sanremo Barbara Cola, Mia Martini, Ivana Spagna Partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa, sarà come l'arca di Noè Riccardo io e te, partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa, sarà come l'arca di Noè Riccardo io e te